Sì, spero di sì. Oh, meno male, meno male. Torno a Roma. Faccio la radio. Cioè, ma pure. Intanto salutiamo la scuola qui, ci sono gli insegnanti del British College di Gallarate. Quanto è importante sapere l'inglese, visto che tu hai studiato prima all'estero. Eh, aiuta. Le lingue aiutano sempre. Perché ti dà una certura.